Domani l'incontro con i componenti del partito, la posizione di Fratelli d'Italia e quale sarà adesso al di fuori della maggioranza del Consiglio? Intanto se qualcuno pensa che noi siamo rivolti alle attenzioni del centro-sinistra si sbaglia, ma si sbaglia di grosso, anche perché noi siamo un partito di destra e non nel centro dove è possibile che si stia o da una parte o dall'altra senza destare scalpore o scandali. Quindi noi siamo un partito di destra e restiamo a destra. L'appoggio nostro sarà un appoggio condizionato dalle proposte che questa maggioranza ci verrà di volta in volta rivolto in Consiglio Comunale. Noi non abbiamo rappresentanze in Giunta, non abbiamo rappresentanze negli altri endi, quindi la nostra attenzione è solamente rivolta alle delibere di Consiglio Comunale. Domani ci sarà un incontro del partito che dovrà parlare sì anche di questa, tra virgolette, presa di posizione, ma non sarà questo il tema principale. Noi non abbiamo messo in crisi nessuna amministrazione, anche perché i numeri ce ne hanno, hanno 19, si può amministrare fino a 16. Forse avete messo in dubbio le azioni di squadra che invece dovrebbero esserci? Ma intanto, a mio modo di vedere, come ha detto benissimo un altro consigliere, ciò che dovrebbe destare un po' di preoccupazione è che un partito di destra, all'interno di una coalizione di centro-destra, dove i partiti dovrebbero essere a braccetto Forza Italia e Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, hanno visioni diverse. Questo forse è l'aspetto più importante politico, però si continua a parlare solo di numeri e questo è spiacevole. La politica non deve essere la conta dei numeri o dei consiglieri per amministrare, la politica deve essere un esame attento dei disagi che ci sono. Poi se invece la mattina ci si alza a pensare ne siamo 19, forse ne siamo 18, allora forse qualcuno non ha capito qual è il problema, non lo ha capito.